un caldo pazzesco siamo appena ritornati dalla passeggiatia sto grondando non mi piacciono questi italianem questa mentalità italianem vieni Tuffi andiamo a farci lavare ma come siete tutta una cosa vero tutta una tutto uguale per voi italiani tutta un impastate di cocaina di sequestri di rapine di omicidi di sequestri di rapine di persone italiane come siete combinati con l'acce tuba l'acce con tutta un impastata vero? complimenti complimenti avevo dimenticato tutto un impasto anche di pedofilie 7 e tante altre cose care istituzioni che sapete e quindi siete anche corrotti violenze violenze di tutti i tipi grazie 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 grazie